E' stato protagonista della qualificazione del Monopoli con due gol sul rigore al Manuzzi di Cesena che hanno seguito quello segnato al Veneziani contro la Virtus Francavilla. Tre reti negli spareggi per la Serie B, così come Jacopo Cernigoi del Pescara, quattro in campionato per un totale di sette in stagione. Mario Mercadante si prende il Monopoli ma dedica la vittoria ai quarti di finale in cui la sua squadra affronterà il Catanzaro al gruppo protagonista di questa grande impresa. Voglio ringraziare i ragazzi che abbiamo fatto, secondo me, una partita fantastica. In uno stadio di alto livello abbiamo dimostrato di saper tenere le reti della partita. Abbiamo creato tante occasioni nel primo tempo, abbiamo macinato il gioco, abbiamo giocato col cuore. Abbiamo dimostrato che col cuore si può andare oltre qualsiasi ostacolo e si può raggiungere qualsiasi impresa. Quindi sono veramente orgoglioso dei miei compagni. Sono felice perché veramente abbiamo dimostrato una compattezza, un'unione di intenti, una forza di gruppo. Perché, parliamoci chiaro, venire a giocare fuori casa, praticamente ci davano tutti per spacciati. Perché tutti ci davano per spacciati. Sotto il risultato dell'andata che ci remava contro, quindi avevamo pochissime chance di vincere. Abbiamo dimostrato di essere veramente una squadra vera in tutto e per tutto, in ogni elemento. Veramente ringrazio i miei compagni che hanno fatto un'impresa straordinaria. Siamo veramente felici e orgogliosi anche per il calcio che siamo riusciti ad esprimere oggi.